E bentornati all'Ammazza Caffè, in questa puntata parleremo di figurone e di figuracce con la partecipazione straordinaria di Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Giacomo Bozzoli e del magistrato di sorveglianza che non lo ha fatto sorvegliare. L'Ammazza Caffè, il sabato di giorno per giorno con Massimo Gramellini. Ma prima di parlare delle altre figuracce, ritorniamo alla madre di tutte le figuracce, l'eliminazione ingloriosa dell'Italia agli ottavi di finale degli europei. Torno a parlarne perché a inizio settimana ho dedicato all'argomento ancora un caffè in cui un po' mi lamentavo del fatto che non ci sono più le dimissioni di una volta, anzi non ci sono proprio più le dimissioni, nel senso che nel presidente della Federcalcio le spalletti hanno sentito l'impulso, il bisogno di rassegnare, almeno per finta, le loro dimissioni dopo quella che è stata una delle più terribili sconfitte della nazionale di calza, terribili proprio per la pochezza manifestata in campo. Un tempo, ho scritto in quel caffè, un tempo le sconfitte ti rimanevano addosso, il CT della Corea, il mondo fabbri, si portò quella vergogna fino alla tomba, adesso invece ci si indigna sì con vehemenza, ma a scadenza, tre, quattro giorni, una settimana al massimo, poi bisogna lasciare spazio all'indignazione successiva, basta reggere la prima ondata di insulti e di sberleffi e poi si può ripartire, come se niente fosse, ed è così perché poi i social dopo due o tre giorni cambiano interesse, cambiano orientamento, focalizzano l'attenzione su qualcos'altro, ad esempio questa settimana si è discusso tanto del seguente tema, è giusto o no che i genitori accompagnino i figli all'orale della maturità? e ho dedicato a questo tema un caffè, l'ultima frontiera della famiglia italiana sono i genitori che scortano i maturandi all'orale appostandosi alle loro spalle con un bouquet di fiori in grembo, l'indignometro dei social è stato invaso dal partito di maggioranza assoluta del paese, i nostalgici, per i quali, ai miei tempi, la maturità era un rito di iniziazione all'età adulta, da vivere senza codazzo di parenti al seguito e in effetti nemmeno sotto l'effetto di una tripla grappa a stomaco vuoto riuscirei a immaginare mio padre che mi accompagna alla matura agitando un mazzetto di gladioli qualche indignato politicamente orientato circoscrive la nuova moda ai famigerati benestanti dei centri storici sostenendo che il genitore arrabbiato di periferia mai si presenterebbe all'esame del figlio e comunque mai si porterebbe dietro un mazzo di fiori, al limite una mazza da baseball ma alla schiera sterminata dei nostalgici si contrappone fieramente l'immancabile partito dei cuoricini, una romantica minoranza che non vede niente di male nell'affettuoso sostegno del clan familiare all'epica impresa. Chi ha ragione? Come sapete lo schema dei social non prevede sfumatura, ogni questione va spaccata in due come una mela, ma per i pochi che si riconoscono quasi sempre nel torsolo, una volta li chiamavano terzisti, sopravvive appunto una terza opzione, quella liberale. La scelta qualunque essa sia non può che aspettare ai protagonisti dell'esame, i figli. Senza il loro consenso dunque è meglio restare a casa, collegati con gli altri genitori sulla chat, maturansia, che esiste davvero. I commenti dei lettori, Mario scrive, con il senno di poi penso che i miei genitori avrebbero fatto piacere assistere alla maturità, però chissà come si sarebbero sentiti, sarebbero stati gli unici a quell'epoca. Dal mio punto di vista comunque conclude, è meglio che i ragazzi la vivano con i loro amici. Paolo invece scrive, i miei a momenti neppure sapevano che io stessi facendo la maturità, i giovani di allora erano più indipendenti di quelli di adesso e forse anche più sicuri di se stessi. Io non vedo per nulla positiva la presenza dei genitori, questi figli sono degli eterni bambini. Roberto Ferrari invece gli risponde proprio sostenendo la tesi opposta, non sono i figli ed essere eterni bambini, dice lui, ma insomma sono cambiati gli adulti che con le loro ansie e insicurezze risultano inadeguati nel ruolo di genitori. Chiuderei che ci sono tanti altri messaggi, non solo con i genitori ma anche dei nonni, perché c'è un messaggio anche di nonna Agata che dice, ieri, con i genitori dei miei nipoti siamo andati all'esame di maturità ed è stata un'esperienza bella, significativa, rassicurarli, ascoltarli, sostenerli, incoraggiarli. È un regalo che i nipoti fanno i nonni. Per noi è stato come toccare il futuro. E sono sempre più convinto, anche dopo aver letto i vostri messaggi, che l'opzione terzista sia la migliore, cioè assolutamente libertà di scelta, ovviamente, e lasciata però la decisione ai ragazzi. Cioè se un domani mio figlio mi dirà non ti voglio fra le scatole alla maturità, io non ci andrò, metterò in casa sull'acciato o chissà quale strumento ci sarà a quell'epoca per palpitare in silenzio e in solitudine. Andiamo avanti, però invece con le vere figuracce della settimana. Questa settimana ho dedicato un caffè al Conte di San Giuliano. Se esistesse un governo ombra, il ministro della cultura non potrebbe che essere Giuseppe Conte. L'altra sera si è lasciato andare a rivelazioni davvero importanti. Nel 2026, ha detto, a Bologna c'è stato l'attentato a Matteotti. Ora l'unica parola giusta di tutta la frase era Matteotti. Un passo avanti rispetto all'anno scorso quando durante un dibattito parlamentare lo confuse con Andreotti, ma ancora troppo poco per superare l'esame di terza media. Matteotti infatti non subì un attentato ma un sequestro nel corso del quale venne ucciso a Roma, non a Bologna, e non nel 2026 e neanche nel 1926 ma nel 1924. Infatti quest'anno all'inseguta di Conte si commemora il centenario. Il timore è che si inneschi una dotta disputa con San Giuliano, il quale potrebbe spostare il delitto Matteotti in Cambogia e attribuirlo ai Khmer Rossi. Ma nemmeno il ministro con delega alle GAF riuscirà mai a competere con quella che Conte rimediò da presidente del Consiglio, inaugurando con un discorso scritto la Fiera del Levante a Bari. Con l'8 settembre inizia un periodo di ricostruzione, confuse l'armistizio e l'inizio della guerra civile con la liberazione, l'8 settembre del 1943 con il 25 aprile del 1945 o del 2026. Posso solo immaginare l'invidia che avrà provato San Giuliano ascoltandolo, specie quando Conte aggiunse che il miracolo economico ci ha balzati al settimo posto delle potenze mondiali, ci ha balzati, perché quel grande innovatore non si accontenta di riscrivere la storia, vuole mettere mano anche alla grammatica. Pezzo di satira, quindi mi trovo un po' in imbarazzo dovere dire che Conte si è arrabbiato, è una satira, e comunque insomma nella post su Facebook che ha fatto ha detto, semplicemente è stato un lapsus, mi sono confuso, non volevo dire Matteotti, volevo dire Mussolini, che qualcuno potrebbe dire peggio mi sento se confondi Matteotti con Mussolini, ma vabbè, però diciamo che non ha detto nulla sulla seconda metà del pezzo, cioè la confusione fra 8 settembre e 25 aprile, che è molto molto seria, mi pare che non possa essere etichettata come una gaffa, anche questa. Mi hanno colpito i commenti dei lettori perché purtroppo, lo dico purtroppo perché è una cosa che non mi piace, sembrano reagire in base all'orientamento politico, cioè chi vota per il centrodestra gongola e invece chi vota per il centrosinistra difende Conte, anche se ha fatto una gaffa. Per esempio Paolo mi scrive, teniamo l'attenzione sui San Giuliano, sui Salvini, sui Sant'Anché che stanno portando in malora l'Italia, non sulla gaffa di una persona che almeno di un po' di cultura e classe ce l'ha. E qui mi domando, ma chissà se arriverà mai un giorno in cui lasceremo, scenderemo dalla curva degli ultra e impareremo a sorridere anche dei nostri errori e di quelli delle persone per cui facciamo il tifo. Io per esempio mi diverto tantissimo a prendere in giro i giocatori della mia squadra del cuore, me stesso, in primis, perché poi un giorno farò un pezzo su tutte le mie gaffe, che certo non sono meno minori di quelle di Conte, però insomma anche un po' di sorriso, prendersi un po' meno sul serio, che ne dite? Chi certamente non ha preso molto sul serio il compito che aveva in quel momento è stato il magistrato di sorveglianza che ha deciso di non sorvegliare un ergastolano. A questo tema ho dedicato il caffè intitolato Ergastolano sulla fiducia. Essendo cresciuto con le tribune politiche di Iader Iacobelli, rimango infastidito dalla propensione di alcuni membri del governo a dire alla loro su qualsiasi argomento neanche avessero una lubrichetta sul giornale. Apro una parentesi, un asterisco, cosa che non si può fare sul giornale, per dire a chi ha meno di 50 anni che Iader Iacobelli era il conduttore delle tribune politiche della RAI che per tantissimi anni, lo so che oggi si stenta a crederlo, erano l'unico momento in cui si parlava di politica. In televisione c'era un solo politico e i giornalisti facevano delle domande cronometrate nel tempo. Adesso si parla più di politica, però non ci sono più le domande dei giornalisti, nel senso che i leader politici non si presentano proprio più a questi incontri con i giornalisti e preferiscono invece andare nei talk a scannarsi tra di loro, però poi alla fine non si capisce mai niente. Torniamo dentro il pezzo, però si fa fatica, dopo aver detto che non mi piace se i ministri che intervengono su tutto, però si fa fatica a non essere d'accordo con quel che ha scritto ieri un ministro su Twitter. Cito «Un ergastolano è in fuga da giorni perché nessuno si era preoccupato di trattenerlo, nonostante la condanna per avere ucciso lo zio gettandolo in un forno». Eh sì, ce lo siamo chiesti in tanti. Il fuggiasco, Giacomo Bozzoli, aveva già due verdetti di colpevolezza sul groppone. Certo, continuava a proclamarsi innocente e a presentarsi regolarmente alle udienze, ma molti lo descrivevano come un lucido manipolatore. Possibile che ai magistrati non sia passato per la testa di farlo sorvegliare dai carabinieri, almeno alla vigilia della pronuncia definitiva della Cassazione? E invece hanno lasciato l'esecuzione della sentenza al suo buon cuore e lui ha pensato bene di tagliare la corda con la compagna e il figlio. I giudici giustificano la loro inazione dicendo che non c'era pericolo di fuga. Hanno ragione, nessun pericolo. C'è stata direttamente la fuga. Per carità, sempre meglio un colpevole in libertà che un innocente in galera. Il guaio è che in un sistema gestito con questa superficialità una cosa non esclude l'altra. Post scriptum. Apprendo solo ora che il ministro con cui mi trovo d'accordo sarebbe Salvini. Confermo tutto, ci mancherebbe. Però domani torno dall'analista. Eh vabbè, Margherita Zanol mi dice. Ne dicono talmente tante che una giusta forza di dai e dai ci sta, riferendosi al tweet di Salvini. Un altro lettore, si firma Fracor, ironico, dice forse, dico forse, ma lo dico da oltre 30 anni, episodi come questo dovrebbero suggerire l'opportunità di una revisione del codice di procedura penale. Beh, c'è però un tema anche legato alla Costituzione, caro Fracor, perché noi abbiamo una regola generale che io trovo giustissima, cioè che c'è una presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Quindi anche le pene, se non quando concorrono a determinati elementi, non possono immediatamente essere eseguite dopo la sentenza di primo grado, dopo quella di secondo grado. Detto questo, ripeto, quando mancano 48 ore alla sentenza della Cassazione e tu hai uno che è stato condannato sia in primo sia in secondo grado, magari una macchina di carabiniera all'angolo della strada, io gliela parcheggerei, anche perché come scrive giustamente Rosaria Mascellani, credo che sarebbe stato un costo piccolo per la comunità. Di sicuro sarebbe costato meno di tutti gli agenti che lo stanno cercando adesso. Con questa pillola di saggezza vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e ci sentiamo sabato prossimo con il prossimo Ammazza Caffè. Questo era l'Ammazza Caffè, il sabato di giorno per giorno con Massimo Gramellini. Giorno per giorno è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Francesco Giambertone, coordinamento di Tommaso Pellizzari, produzione di Carlo Annese con Manuel Iannuzzo.